Qual è il rapporto tra le parole e la musica? Vuoi dare un po' di effetto al pubblico? Centrocampo di qualità ed esperienza composto da D'Annunzio, Leopardi, Dante e Alfieri. Spedisco cartoline dalla costa, ingolfo di ricordi che mi scrivo, la mia vara, bucchetta della posta, per dimostrar che dopo tutto vivo. È notte fonda, leggo sanguinetti, poi mi interrompo, torno a Leopardi, il sole salza prima dei poeti, ma i poeti tramontano più tardi. Cuoca mia, le parole sono molte, si dovrebbero cuocere due volte e lasciare raffreddare per due notti, le parole mia cuoca sono biscotti. Se ti scrivessi come ormai ti scrivo, che esistere si coniuga al passivo e vivere la vita in transitivo, che cosa crederesti che son vivo? Scrivo un gatto nell'ombra del giardino, punta la preda, non mi agolio, sa fare tutto quel che vorrei io, con molti meno libri di lattino. Un virus lungo che non vuol finire, un vizio irreparabile da niente, il mal di scrivere non può guarire, finché non ci sia mala veramente. Cuoca mia, le parole sono molte, si dovrebbero cuocere due volte e lasciare raffreddare per due notti, le parole mia cuoca sono biscotti. Se ti scrivessi come ormai ti scrivo, che esistere si coniuga al passivo e vivere la vita in transitivo, che cosa crederesti che son vivo? Ti scrivono le dita di un innetto, la rude poesia non ha davvero l'ingegno di chi ficca il tuo vegliero, nella bottiglia d'alcolo così stretta. Un lume di candela, quella è spente, l'eleganza dell'ombra puro nero e il termometro caduto sullo zero, di migliore del nulla non c'è niente. Felice mia per non lasciarti sola, rilego Franza e non ripasso Dante amo questo, di Kafka non consola, il che se mi permetti è consolante. Cuoca mia, le parole sono dolci, sono pagine verdute tra i ricordi nel silenzio si interrompono gli amanti, le parole cuoca mia sono più avanti. Grazie a tutti